Tabacco tra riconversione e ristrutturazione, questo è il tema affrontato nel convegno organizzato da Nanghiari con la collaborazione della provincia di Arezzo. Qual è il futuro del tabacco in Valtiberina? Il futuro del tabacco in Valtiberina andrà dettato proprio stamattina con questo convegno, infatti l'importanza di questa giornata è quella di cominciare a dare agli operatori del settore degli indirizzi e delle informazioni per avere certezza, perché credo che ciò che manchi in questo settore sia la certezza per consentirgli di fare un vero sviluppo da imprenditori, agricoli ma sempre imprenditori. Assessore Andrea Cutini, la provincia di Arezzo manifesta grande interesse per questo ambito economico che è fondamentale per la provincia stessa, cosa sta cambiando appunto in sede di PAC? I cambiamenti sono radicali perché ormai gli indirizzi dell'Unione Europea sono sempre più per dare sostegno anche finanziario e economico attraverso regime di aiuti però collegati a una serie di azioni di miglioramento sotto il profilo culturale, sotto il profilo aziendale e ambientale. Quindi è un cambiamento non di poco conto rispetto anche al recente passato, sono cambiamenti che come dicevo prima travalicano anche il livello locale, investono come dicevo prima il livello del governo italiano che purtroppo non è stato molto attivo in questo senso e quindi è un'interlocuzione rispetto al quale gli enti locali possono ma possono fino a un certo punto. Tutto quello che noi possiamo fare lo possiamo fare in collaborazione con gli imprenditori e le associazioni di categorie e vogliamo farlo per poterci preparare al meglio a questi cambiamenti.